Dopo 18 mesi di inutile sospensione, riprendiamo la virgola, questo piccolo spazio di commento e vaniloquio, riprendiamo e parlo al plurale non per un delirio di onnipotenza o un plurale ma perché mi farò coadiuare e mi farò aiutare da due consulenti per quanto riguarda i commenti soprattutto in questioni politiche che sono Nanà e Kiki, ve li presento Allora, vorrei cominciare questa nuova serie, tra virgolette, nuova serie che soltanto se in qualche modo io registerò che avrà un gradimento ovviamente su internet grazie ai vostri commenti e riterò opportuno continuarla, quindi facciamo qualche puntata tra virgolette pilota e poi vediamo un po' come va con le visualizzazioni e con i commenti Vorrei commentare oggi alcuni avvenimenti incrociando due fatti Allora, un fatto è la trasformazione in legge del disegno di legge Cirinna sulle unioni civili cosa che è avvenuta ieri con 372 sì, 51,999 astensioni è un successo, ritengo che sia anche, diciamo purtroppo parziale perché non c'è un'effettiva equiparazione, queste unioni civili con il matrimonio, unioni omosessuali, con il matrimonio vero e proprio ma comunque è stato detto tutto, è il contrario di tutto quello che volevo incrociare, erano alcuni commenti fatti da due candidati alla poltrona, diciamo, alla carica di sindaco di Roma Alfio Marchini e Giorgia Meloni Allora, nei vari commenti ci sono anche i loro Ricordiamo il primo, Alfio Marchini che è il candidato sostenuto da Forza Italia quindi da Silvio Berlusconi che per quanto riguarda le unioni civili ha dato in Forza Italia la libertà di scelta senza un'indicazione politica Alfio Marchini, candidato sostenuto da Berlusconi nipote di un Alfio Marchini comandante dei GAP gruppi di azione patriottica un gruppo partigiano di sinistra ebbene ha detto che lui non intenderà lui, appunto, qualora fosse eletto sindaco non intenderà celebrare nozze omosessuali è una dichiarazione, insomma, abbastanza forte e che è veramente strano perché, insomma, è ovvio che tenendo presente che tra i candidati c'è anche un Maria di Nolfi che è espressione del cosiddetto popolo della famiglia praticamente la trasformazione politica del family day, se così vogliamo dirla, insomma, semplificando molto non si capisce appunto se questa è una apertura verso una richiesta di collaborazione poi eventuale o di appoggio politico per un ipotetico balottaggio al candidato e all'elettorato di quel candidato cioè di Mario di Nolfi ma è strano appunto che comunque sia Alfio Marchini si sia detto appunto contrario alla celebrazione di nozze omosessuali quando il partito che lo sostiene ha dato libertà di scelta e non un'opposizione netta questa è un'osservazione che mi faceva appunto mentre navigava Nanà me la faceva e diceva, non è un po' strano nello stesso modo strano il fatto che Giorgia Meloni cogliendo la palla al balzo la palla appunto offerta da Alfio Marchini dica, beh, ci penseremo noi cioè un sindaco non può proporsi appunto di violare la legge e Giorgia Meloni è un leader di Fratelli d'Italia una formazione chiaramente di destra sostenuta fortemente da Matteo Salvini leader della Lega il quale Matteo Salvini invece ha detto e anzi ha chiesto a tutti i sindaci d'Italia leghisti di fare una sorta di obiezioni di coscienza quindi opporsi alla celebrazione dei matrimoni omosessuali è una cosa veramente strana ed è un po' un'indicazione di come la funzione di riferimento che prima, che un tempo c'era che era quella del partito in queste occasioni cioè quando un elettore poteva magari non conoscendo molto i candidati far riferimento a una sfera a una scuola politica a una cultura diciamo a un portato politico che il partito comunque esprimeva è che normalmente si ritrovava poi nel candidato che sosteneva alle varie elezioni che fossero politiche o amministrative questo non c'è più perché pare che appunto in questo caso i partiti siano stati soltanto dei comitati elettorali insomma era evidente questa cosa già dalle nozze forzate va Fratelli d'Italia o almeno Giorgia Meloni e Matteo Salvini cioè la Lega insomma quindi una forza sicuramente nazionalista e patriottica Fratelli d'Italia e una forza la Lega con il segretario Matteo Salvini che fino a qualche anno fa voleva disgregare l'Italia dividerla e così via sono veramente delle stranezze questo appunto era portato diciamo il supporto il risultato diciamo del supporto di Nanà mentre invece Kiki oggi stamattina mi ha ricordato una cosa e voglio ricordarla qui con voi una cosa triste 12 maggio del 1977 moriva a Roma Giorgiana Masi Giorgina detta Giorgiana Masi che era una studentessa che con il fidanzato nei pressi di Monte Garibaldi venne colpita da un proiettile alle spalle la cosa suscitò moltissime polemiche mentre partecipava ad una manifestazione una manifestazione in cui organizzata dal partito radicale a cui poi saranno accodati anche dei movimenti di sinistra aveva come finalità una raccolta firme per dei referendum che radicali avrebbero promosso e anche la celebrazione ci sono delle cose che tornano di nuovo alla famiglia la celebrazione del terzo anniversario della vittoria referendaria rappresentata appunto dal trionfo del no al referendum contro il divorzio quindi per l'abrogazione del divorzio ecco di questo io vi ricordo ed è opportuno secondo me anche metto in evidenza proveremo a metterlo anche in evidenza questi giorni LibriDV si è occupata come di questo evento cioè della morte di Giorgiana Masi promuovendo con un'intervista apposita un po' di tempo fa ormai un libro di Andrea Mauri un amico che troverete diciamo nel sito di LibriDV più di una volta un libro di Andrea Mauri intitolato Giorgiana Masi e la primavera del piombo edito da You Can Print c'è un'intervista all'autore io vi consiglio di riascoltarla fatta insomma in un certo modo LibriDV si è ritenuto di occuparsi di questo fatto il libro è molto interessante come tutti i libri di Andrea Mauri io vi ringrazio attendo i vostri commenti eventualmente anche gli insulti grazie ancora e a presto